Partiranno ufficialmente sabato 3 luglio i saldi estivi in Abruzzo. Nei giorni scorsi si era paventata l'idea di un rinvio alla fine del mese, ma dopo la riunione di questa mattina tra le associazioni di categoria si è arrivati a confermare la data nazionale del 3 luglio, dato che per uno slittamento a questo punto non ci sono i tempi sufficienti. Sempre nel corso della riunione si è deciso che dal prossimo anno potrebbe esserci però lo slittamento a fine luglio, addirittura inizio agosto, come accaduto già da quest'anno in Puglia, regione che ha puntato molto sullo shopping da affiancare al turismo come base per la ripartenza post-Covid. Noi pensiamo che il saldo sia un saldo di fine stagione e debba essere affrontato nella fine luglio, ma soprattutto nel mese di agosto. Il saldo del 3 è stato pattuito a livello regionale, anche in accordo con la conferenza Stato-Regioni, ed è uscita questa data. L'assessore oggi ci ha chiamato per chiedere se siamo disponibili a rivedere la data di saldi e noi diciamo comunque sì che siamo disponibili a condizione che questa data sia una data di carattere nazionale, perché altrimenti il danno sarebbe maggiore di quello di fare il saldo il 3 di luglio. Per cui sì al posticipo, sì alla data nazionale, anche c'è un altro dubbio che se la data nazionale non cambia, comunque il 3, il saldo online, partirà danneggiando quelle regioni che andranno a posticipare il saldo. La Puglia non è l'Abruzzo, per cui la Puglia ha 10 milioni di turisti e ha 400-500 metri lineari di regione che non danno la stessa possibilità al consumatore abruzzese di andare a fare l'acquisto, per esempio, in una regione limitrofe. Quindi se l'Abruzzo dovesse partire con una data differenziata rispetto a Marche, Lazio e Molise, si potrebbe creare il danno che il consumatore, approfittando di una giornata bella, vada a fare shopping nelle regioni limitrofi.